E poi ho un senso di colpa, anche proprio perché ce l'hanno insegnato così bene, che viene comunque per la mia generazione, quella degli attuali 40-50-55, perché la laicità dello Stato come principio l'abbiamo ereditato chi è cresciuto negli anni 80-90, lo ha traspurato senza rendersi conto con consapevolezza dell'enorme valore che aveva ereditato e anche per una stagione politica di grande depressione, di valori e quindi probabilmente abbiamo perso quel terreno modernato precedentemente, quindi come generazione più che i giovani di adesso forse la nostra dimenticanza è stata in qualche modo colpevole.